Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Il suo è un cognome pesante, offerto in dono da un padre ancora più ingombrante. Non è nostra intenzione far del vacuo vittimismo sui nepobabi e sulle difficoltà di crescere in una famiglia ricca, famosa e privilegiata. Eppure, non deve essere stato facile per Rosalinda Celentano crescere all'ombra di due genitori così, provando allo stesso tempo ad affermare la sua propria personalità e il suo personalissimo modo di vivere e di amare. Di certo, la questione non è ancora del tutto risolta, così come da lei stessa raccontato in una recente intervista. È il terzo frutto dell'amore tra la coppia più bella del mondo. Nata dai lombi di Adriano Celentano e Claudia Mori nel 1968. Qualche anno dopo Rosita e Giacomo. È la più piccola di casa e, in un certo senso, anche la più ribelle. Forse, anche la più distante. Intervistata da Mo Mag, Rosalinda Celentano ha raccontato di aver sentito i propri genitori l'ultima volta il 6 gennaio, per il compleanno di mio padre. Io ho fatto gli auguri e ci siamo scambiati un saluto. Un saluto, circa otto mesi fa. Non di certo la testimonianza di un legame solido, seppur, Rosalinda afferma secca, preferirei non soffermarmi su questo, ma non ha paura di parlare del padre, almeno dal punto di vista professionale. Se in quanto padre avrà delle pecche, la figlia cantante ne riconosce l'indiscusso merito artistico. La verità è che mio padre è sempre stato un visionario. Un artista che ha saputo anticipare i tempi. E a fare la cantante ci provò anche lei. Nel 1990 partecipò a Sanremo Giovani con il brano L'età dell'oro, parte del suo primo e unico album. Ma non necessariamente l'ultimo. La musica è e rimane la mia più grande passione. E siccome la vita sa essere imprevedibile, se dovessi imbattermi in un pezzo straordinario, uno di quelli che senti di dover assolutamente interpretare, potrei riprovare. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.